Ma come faccio a far memorizzare le tabelline a mio figlio? È una disperazione, le ripete tutto il giorno ma non li entrano in testa. Per forza il metodo che usi non funziona e in questo modo tuo figlio avrà il rifiuto totale. Considera questi tre aspetti. Primo, attenzione al concetto di quantità. Inutile imparare a memoria la matematica. Sperimenta cosa vuol dire tanti, pochi, ogni, prendi, consegna, poi passa ai numeri. Secondo, attenzione al concetto della somma e della stessa quantità. La tabellina del 2 sarà sempre aggiungere 2, la tabellina del 5 sarà sempre aggiungere 5. Sempre una cosa uguale, un salto uguale, uno spostamento uguale dello stesso numero. Tre, attenzione, non insistere con il tuo modo. Devi trovare il modo che funziona per tuo figlio. Ad esempio la tavola pitagorica può essere un modo per impararla, per cui incroci, ugi colori, evidenzi. Ok, una tabellina con un mio cartoncino colorato. I salti, fantastico anche i salti. Realmente potresti provare diverse cose anche a fargli fare dei passi. Ok, per avere altre strategie o conoscere altri modi, seguici negli altri video.